Sono il macchinista del treno a Viareggio, abbiamo deragliato, noi siamo scappati, ma è scoppiato tutto, portavamo gaspoli con stato infiammabile. È un lunedì, il 29 giugno del 2009. Alle 23.48 un treno merci in transito dalla stazione di Viareggio esce dai binari. È lungo 14 carri, carichi di GPL. Quando il primo svia la sua corsa, trascina con sé altri quattro vagoni. La cisterna colpisce violentemente un'infrastruttura ferroviaria, aprendo uno squarcio che provoca la fuoriuscita di GPL. Una scintilla e scoppia l'inferno. L'esplosione investe l'intera zona circostante fatta di case, persone ormai a letto, passanti. In pochi istanti perdono la vita 11 persone investite dalle fiamme o dal crollo degli edifici di Via Ponchielli e delle altre strade che si trovano a ridosso della stazione. Altre due persone muoiono per un infarto. Centinaia rimangono ferite, molte moriranno nelle settimane successive, altre portano ancora sulla pelle ustionata il ricordo di quei momenti. Miracolosamente illesi i due macchinisti che, dopo aver frenato il convoglio, riescono a mettersi in salvo dietro a un muro. Impossibile per tutti gli altri. Troppo improvvisa la tragedia, troppo veloce. 32 morti, tra cui tre bambini e centinaia di feriti, è il costo umano della strage ferroviaria più grave mai avvenuta in Toscana, che non ha ancora una verità giudiziaria definitiva.